Gli agenti della squadra mobile di Frusinone insieme agli agenti della Guardia di Finanza hanno arrestato per droga un insospettabile commerciante di 30 anni, trovata in possesso di due chili di hashish, confezionato in due involucri contenenti 10 panetti ciascuno da 100 grammi di cocaina, che dovevano essere immessi nel mercato della droga Sora. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno bloccato la donna al centro di Fontana Liri, mentre era alla guida della propria auto. Con lei c'era anche suo figlio di 7 anni per cercare di non dare nell'occhio ed evitare posti di blocco da parte delle forze dell'ordine. La droga e l'auto sono state sequestrate, il bambino è stato affidato al padre, mentre la donna è stata condotta al carcere di Rebibbia.